1, 2, 3, 4, I corti I corti, i corti, i corti Degli auti Buongiorno Buongiorno, salve Senta, mi dovrebbe dare un preservativo Stasera una cena a casa della mia ragazza Non si sa mai Un preservativo? Certo Ecco a lei Sono 2 euro La prossima volta Ah Senta, me ne dico un altro C'è anche la solettina della mia ragazza Che mi stuzzica sempre, non si sa mai Ah, briconcello Ecco a lei Si diverta Grazie mille Grazie Una cosa, me ne dico un altro Sa, la mamma della mia ragazza È ancora carina Anche se la sua età Sa come Attira molto la carne Ecco, sì, sì, me ne dico un altro Anche la madre Lei è proprio un briconcello Guardi Ecco, lo offre la casa Oh, ma grazie, grazie Arrivederci Arrivederci Ciao, ciao Ciao, come stai? Dove un bacino? Ah, viva Mh Ok Dai su, vieni Siediti di fianco a me Tu, butta stronza Vattene via No Vediti qui Non farlo davanti al tuo tipo, eh? Prima di mangiare la mamma dita che devono aspettare a papà Ok, quindi la mamma è la zè, giusto? Sì, sì, è di fare che sta facendo la magia Cucina Questa stronza, non devi in cucina No, 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 no Sì, non vedo l'ora di stasera Ciao, ragazzi Ciao, mamma Avevo, Maria Vattene via Ciao, papino Avevo, Maria Grazie Il signore è con te Tu sei da bene Allora, ragazze, siete pronte per cenare? Ma chi è questo ragazzo così religioso? Alza la... Non riesco neanche a... Ha ragione Ha ragione, caro Come fosse così religioso? Amore, non sapevo che fosse così religioso Io non sapevo che tu avessi un padre farmacista Pronto? Pronto, sono il dottor Scortagatti Parlo con il signor cane Sì, sono io Dica Salve, ho i risultati delle sue analisi Ho una notizia buona Ma anche una notizia brutta Ah, oddio Mi stai impugnando il padre Va bene, eh? Va bene, prima quella buona Dai, su... La buona notizia è che Lei restano 24 ore di vita Che cosa? Lei me lo sta dicendo così Con spensatezza al telefono Ma allora non lo so immaginate Quale sei quella brutta Vuole sentire anche quella brutta? E beh... Ehm... I risultati sono di ieri Grazie a tutti